L'Istituto Musicale Gaetano Braga di Teramo, dopo le numerose polemiche, ha deciso di accettare la proposta del Comune di Teramo, che ha offerto il Parco della Scienza quale sede temporanea dell'Istituto Musicale, vista l'inagibilità post-sisma del Comi e della sede storica. In questo momento è l'unico tetto che ci può soddisfare, che può essere un tetto sopra la nostra testa. Ora rischiamo la chiusura del conservatorio, l'ordinanza è stata notificata, purtroppo questo terremoto ci ha colpito duramente, sia la sede istituzionale di Piazza Verdi, che è chiusa, praticamente deve essere chiusa, e sia la sede di Via Comi, nella quale svolgevamo attività didattica, che purtroppo è stata chiusa anch'essa. Quindi mancanza di alternative e non vediamo altra soluzione. È una questione di emergenza, dobbiamo traslocare, voi non avete idea, quante carte, quanti libri, quanta storia, 120 anni di storia sono a Piazza Verdi, per cui realmente è una situazione di grandissima emergenza che dobbiamo tamponare. Al Parco della Scienza, a Spazio Cene, metteremo lì tanta roba. Una soluzione tampone per consentire all'Istituto Musicale di non perdere la continuità didattica, in vista di un ritorno nella sua sede storica. Piazza Verdi tornerà ad essere la casa del Braga, ha garantito il sindaco di Teramo, Morizio Brucchi.